Questa è la lettera che ho preparato a chiamare a consegnare domani mattina di dimissioni dalla carica di parlamentare. Io sono stato onorato di aver rappresentato la mia città, di aver rappresentato la mia regione, la mia provincia, il mio territorio in questi anni. Domani mattina sono alla Camera dei Deputati, consegnerò questa lettera, dovrò sbrigare, credo che ci metterò due giorni, una serie di pratiche, devo consegnare il codice internet, le chiavi della stanza, devo lasciare la casa che avevo preso in affitto, devo recuperare le cravate che credo di aver distribuito in tutti i posti da dove sono passato, che sapete che non amo già che cravate e proprio per questo fatto le ho depositate alcune nell'ufficio che avevo alla Camera. C'ho un po' di cravate nella cassetta dalla posta e spesso arrivavo senza cravate e ero obbligato a metterla. C'è qualcuna nella stanza di qualche collega, qualcuna a casa, quindi domani credo che passerò mezza giornata solo a recuperare le giacche e le cravate.